con le mani fino al centro del capo 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 Assegnato il numero 13 Mattia! 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 Che gol! 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 Mattia! Assegnato il numero 72 Josef Ilici! Josef Ilici! Josef Ilici! Che gol! Che gol! Che gol! Che gol! Che gol! Rav MB! Che gol! Che gol! Che gol, despair a metterci dai osti il pane ma non occuperai niente Andrea vai a metterla siiii che bravo gol gol dell'Atalanta assegnato il numero 72 Joseph 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 non c'è lì nessuno non c'è lì nessuno è lì nessuno via bello dai ma non c'è lì lascia la cattialla in cuore è lì in cuore Gattucci è lì in cuore dai dai tu vieni perché che è quegli errori di merda lì che hai tutto il tempo, hai tutto il tempo di fare quello è molto buoni bravo dai dai vieni vai nico vai nico dai no ées dai 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 ora è 18 grazie 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 un po' di poione fai lì scemo o no? fai lì scemo o no? è un bravo aver toccato il poione è un po' di poione è un po' di poione era avanti eh wow 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 No, 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 no. Tira dietro. Ah, imbecile! La libera bene! 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 una festa 3-3